rivedendo un pubblico così numeroso, succede veramente sui comunali della nostra paese. Mi auguro che i vostri interessi possiedono di tempo, la partecipazione dei consigli comunali è un diritto che i cittadini hanno, in questo modo la possibilità di meglio comprendere che l'accesso di politico e di istituzione sarà una base del governo di Mazzarri. Mi approfitto per ringraziare pubblicamente tutti i cittadini che in questo mese ci hanno sfruttato, incoraggiato, supportato e rimontato. Ovviamente se siamo seguiti da questa parte della sala del Consiglio è che posso sostenere il nostro stato succedente. I Mazzarri hanno scelto la vera attività, ci siamo dispiaciuti, ma non possiamo distraerlo in atto. Parlo più cruciale perché questa non è solo la mia lettera, che nemmeno la lettera che fa consigliere di minoranza, ma è che i 499 cittadini che ci hanno votato soprattutto un gruppo della distinzione per Mazzarri, un gruppo di persone che ha speso cuore anni in campagna elettorale e che, nonostante tutto, ha determinato l'esterno di lavorare a vedere il paese. Le nostre idee, i nostri progetti, i nostri sogni non si sono certi sogni lo scorso di un'ultima. Sono stati momentaneamente messi con un cassetto, per uscire ancora più forti eventi. In occasione, come questa, la parola affinitazionata è di solito della collaborazione. Da parte nostra ci sono invitati a lavorare, ma ciò non vuol dire a qualsiasi condizione, anche per rispetto di loro che ci hanno votato per l'ambiente di noi. Crediamo che il verbo più lavorare abbia un valore importante, che non si può svendere. La collaborazione non viene semplicemente concessa, deve essere invitati. Ci impegneremo pertanto a fare una miglioranza seria, onesta, attente e scrupolosa. Non saremo mai a conto per capito questo. Analizzeremo, studieremo ogni atto, valutando di volta in volta come valutare ciò che ci verrà proposto. E a nostra volta faremo delle proposte, augurandoci che vengono valutati un nuovo oggettivo senato. Concludo. A questo punto augurando il profitto nuovo al sindaco e lui ci viene.